Donà di nome? Melissa. Come Tamara? Sì, stesso cognome. Trevigiana di? Trevigiano. Primo scudetto? Ruolo? Piacciatissimo. Quanto gioca in una stagione? Titolare? Fissa? No. Quanti cambi insomma? Nelle finali quanto è entrata? Di solito entro per la battuta o per la ricezione. E' bello lo stesso? Quanto è bello anche per chi non è titolare uno scudetto? La stessa cosa perché alla fine comunque siamo dal 3 di agosto che ci alleniamo tutte quante allo stesso modo. Donà è uno scudetto meritato? Inteso è la squadra più forte perché c'è stato molto affollamento di impegni. Poi una serie semifinale quarti, brevissima, se ne ha presente il basket fa 5 nei quarti, 7 in semifinale, 7 in finale. Parliamo del basket maschile per non parlare dell'NBA. Qua invece è tutto compresso, Conegliano, prima la Coppa. E' la squadra migliore? E' la squadra che è arrivata più in forma nel momento migliore. Mi accenna alla sua storia, alla sua traiettoria pallavolistica. Gli anni sono? 35. Quante società meglio? Tantissime. Quante in Veneto? In Veneto ho giocato a Conegliano e il resto comunque ho girato più che altro sull'Italia, centro, al nord, quindi ho girato posto. Professionista da quanti anni, Donà? Da 17. Ah, proprio? Diplomata, laureata? Ho fatto liceo scientifico e avevo scritta giurisprudenza, non ho voluto finire. Grazie.